È cominciato il cantiere dell'asilo nido a Crevola d'Ostola, siamo molto soddisfatti come amministrazione di questo risultato. Il cantiere è cominciato nelle fasi operative e dovrebbe concludersi entro fine del 2025. È finanziato per la quasi totalità del PNRR per circa 2 milioni di euro e permetterà di avere una struttura moderna e al passo con i tempi insieme alle altre che sono nate in questi ultimi anni, in particolare con la nuova scuola elementare e andremo quindi ad avere un polo che comprenderà asilo nido, scuola materna, scuola elementare e scuola secondaria di primo grado. Nell'ambito del cantiere verranno poi realizzate alcune opere di urbanizzazione, di accesso da violante leghieri e il dimensionamento dell'asilo nido sarà da circa 20 fino ad un massimo potenziale di 70 posti che è proprio il massimo a livello tecnico.